Non perdiamo altro tempo, vieni Tommaso, Tommaso Baldovino Ciao a tutte, ciao a tutti Allora, intanto fatemi fare una premessa Questo talk non rivelerà segreti o chissà quale trucco per trovare nuovi clienti Mi dispiace, mi dispiace, lo so, se volete vado via In realtà l'idea di questo talk mi è venuta per condividere la mia esperienza degli ultimi due anni circa Io mi occupo di web design, quindi sviluppo siti web e e-commerce Per offrire qualcosa di diverso e trovare anche servizio, comunque un modo diverso Per affrontare il mio lavoro e pormi nei confronti dei clienti Vi racconto questa cosa perché secondo me si applica anche a tanti settori possibili Non solo al digitale, non solo al mio ambito Probabilmente il freelance camp, anzi sicuramente il freelance camp È l'ambito migliore dove condividere esperienze e raccontare questa cosa Perché mi aspetto un po' di feedback, magari anche dopo Prima di andare avanti voglio partire con una metafora Che è quella del meccanico Il mio lavoro, ma penso anche molti altri Molto spesso viene vissuto come quello che fondamentalmente fa un meccanico Cosa succede? Tipo auto-officina Che succede se rimango a piedi con la mia macchina La porto da un meccanico, aspetto che me l'aggiusti Pago perché altrimenti non funziona E poi riparto E il meccanico cosa fa? Poi passa al cliente successivo Stessa cosa, risolvo un problema, ti riconsegno la macchina E al cliente successivo Questa cosa va benissimo Assolutamente lecito, niente di male Però iniziavo a starmi un po' stretta Perché sviluppo di un sito, sviluppo di un altro sito Sviluppo di un e-commerce Diciamo che la sensazione di lavorare a catena di montaggio Non mi dava poi grandi soddisfazioni E quindi ho iniziato a guardarmi intorno E a cercare di capire come integrare questo tipo di lavoro Questo tipo di approccio Con qualcosa di diverso E quindi sono arrivato alla conclusione Che potevo offrire un servizio ricorrente Che era una cosa che non avevo mai fatto prima E che poteva interessare una parte dei miei clienti Nel mio caso in particolare Ho iniziato circa un anno e mezzo fa A offrire un servizio di gestione sito web Io lo chiamo manutenzione evolutiva Perché mi occupo della parte tecnica Cioè tutte quelle rogne che di solito un cliente non vuole avere Quindi le delega a me Ci penso io Non ci sono problemi Ti mantengo il sito online e funziona tutto Ma non mi sembrava abbastanza Secondo me c'era bisogno di qualcosa di più E quindi il discorso di manutenzione evolutiva Nasce proprio per questo motivo Perché nella mia idea Ci mettiamo prima a tavolino Mi racconti il progetto Come vuoi far crescere il tuo business Come vuoi Che progetti vuoi lanciare Che servizi vuoi offrire Nuovi magari tra qualche mese E insieme Programmiamo le attività Che posso fare ad esempio Sul tuo sito web Per farlo crescere insieme a te Insieme alla tua attività E ci mettiamo d'accordo Quindi per un percorso di crescita insieme In cui io ti seguo Questo tipo di approccio Appunto è calato nel mio ambito Ma secondo me Si presta benissimo A chi offre consulenze A chi offre servizi Perché l'importante è Iniziare a entrare nella logica Di come posso aiutare un cliente A fare un percorso Da un punto A a un punto B E seguirlo in questo percorso Magari non interessa a tutti i miei clienti Ma una parte potrebbero essere interessate La cosa importante È che nell'offerta Oltre a un servizio ricorrente Ci devono essere dei benefici evidenti Lo so che sembra banale Ma stiamo parlando appunto Di un servizio ricorrente Che prevede un impegno Nel tempo continuativo Quindi se io Non supero l'ostacolo iniziale Del servizio in abbonamento È chiaro che ho difficoltà A offrire un qualcosa del genere Perché rispetto al progetto Una tantum che finisce lì E poi magari ci risentiamo Quando ho bisogno Un impegno continuativo nel tempo Deve avere dei vantaggi evidenti Per potermi permettere di proporlo Come ci sono arrivato E qui dico Secondo me È qui che Probabilmente qualche punto di contatto Anche per la vostra attività Qualsiasi essa sia Potete trovarlo Ci sono arrivato Ascoltando chi era già mio cliente E ho realizzato Che alla fine C'erano due situazioni ricorrenti Una situazione Era quella di Chi era già mio cliente E persone con cui Magari ho realizzato Un sito web Un sito Non so Di presentazione Di un'attività Ma anche un e-commerce Quello che succedeva E che succede tuttora È che Finito il progetto Dopo un tot di tempo Viene fuori Un'esigenza nuova Una modifica da fare Un'aggiunta da fare Un nuovo prodotto da lanciare E quindi mi veniva chiesto Supporto Per modificare Ad esempio La piattaforma fatta O l'e-commerce realizzato E questo È sicuramente un punto Da dove Potevo fare qualcosa L'altro Ambito È quello Con clienti Totalmente nuovi Che venivano da me Per un problema tecnico O perché il sito Era offline O perché Era stato Bucato Hackerato C'erano dei virus Quello che volete O magari perché Aruba Aveva messo il sito offline Non so se lo sapete Ma Se un sito è infetto Ed è su Aruba Aruba Ve lo mette offline Affinché non risolvete Il problema Ma lo fanno Insomma in tanti È abbastanza comune E quindi venivano da me Per chiedermi Di tornare online E questa cosa Dopo un po' di volte Più che intervenire Con l'urgenza E con il Risolvo il problema E Ti aiuto Insomma A uscire dalla situazione Secondo me Secondo me Poteva essere risolto Ricorrente Ricorrente Dove ti pago Un totto al mese E mi risolvi Questi problemi Ho messo insieme Un po' i punti Però Questa cosa Probabilmente Può essere trovata Anche in altri ambiti Soprattutto appunto Se offrite servizi O se fate delle consulenze Se potete prevedere Un percorso Da fare Insieme al vostro cliente Andando avanti Forse No perché è morto il telecomando Andiamo avanti da qui Ok Perché farlo? Vabbè Il primo motivo è evidente È un'entrata ricorrente Sappiamo tutti che Una delle incognite Del lavoro da freelance È che È fatto di alti e bassi Quindi Se ho un modo Di avere un'entrata ricorrente O meglio Di programmarmi Un minimo Una percentuale Della mia attività Strutturata in questo modo Sicuramente Sono più tranquillo Io In questo momento Vi dico Il 2022 È stato il primo anno intero In cui Ho offerto Questo tipo di servizio Perché l'ho lanciato Più o meno A metà 2021 E quest'anno Questo tipo di servizio Che offro È circa il 30% Del mio fatturato Quindi Sicuramente È una fetta importante Che se non Iniziavo a offrirlo Probabilmente Il mio fatturato Era inferiore L'entrata ricorrente Chiaramente Non è che posso Prevederla all'infinito Non è che continuerà All'infinito Insomma Dipende dal servizio Dipende dal tipo di Progetto Dai clienti Però Sicuramente Delle garanzie Interessanti Le può dare Urgenze È uno degli altri Vantaggi Perché Se riesco A programmare Un lavoro Nel tempo Con il cliente Chiaramente Evito Tutte le urgenze Di risolvermi Questo problema All'ultimo minuto Poi Capiterà Comunque Ci saranno Sempre situazioni Di questo tipo Ma se riesco A programmare Nel tempo Un percorso Da fare insieme Molte urgenze Secondo me Riesco a evitarle E Questa cosa È Secondo me Uno dei valori Aggiunti Veri La possibilità Di cross selling Cioè Un servizio Di questo tipo Un servizio Ricorrente Di questo tipo Lo posso offrire Molto facilmente A chi è già A mio cliente Magari clienti Con cui ho Un rapporto Che va avanti Da tempo Con i quali Molto spesso Mi viene chiesto Di fare Più di un intervento E quindi Rispetto a vederci Ogni totto Con una richiesta nuova Perché non programmare Un percorso continuativo Di crescita insieme Quelli sono Potenziali clienti A cui proporre Una cosa di questo tipo Ma L'altra possibilità Interessante È che Questo tipo Di prodotto Questo tipo Di servizio Io lo posso Offrire In abbinamento Ad altre cose Che sto già offrendo Nel mio caso Se mi viene chiesto Un preventivo Per un nuovo sito Per un e-commerce Io Nel 90% Dei casi Già Ti faccio presente Non è che obbligatorio Ma ti faccio presente Che c'è la possibilità Di fare Una volta finito Il progetto Un percorso Di crescita insieme A queste condizioni Dove io mi prendo carico Di questi Tipi di sviluppi E ti posso aiutare In questo percorso Quindi diventa Molto più facile Non è che parto da zero Non è che Cerco sempre Esclusivamente Nuovi clienti E anche La proposta È molto più naturale Quindi Sono dei vantaggi Secondo me Importanti Ci sono due cose Fondamentali A cui fare attenzione La prima È il tempo a disposizione Perché stiamo parlando Di un servizio ricorrente Anche se Non lo offro A tutti i miei clienti E non mi occupa Ad esempio Parliamo di un servizio mensile Tutto il mese Chiaramente Il mio tempo è limitato Quindi Non posso Pensare Di occupare Tutto il mio mese Con interventi Di questo tipo Perché altrimenti Ad esempio Io non svilupperei più Nuovi siti Ma Devo Prevedere Il lavoro da fare Quanto tempo Posso dedicarci E soprattutto Quanti clienti Posso seguire Quindi All'inizio Magari parto piano Vedo quanto tempo Mi porta via A questo tipo Di servizio E cosa posso offrire Poi Man mano Posso Prendere più impegni Seguire più clienti Ma è una cosa A cui fare attenzione Perché Altrimenti Poi Rischio di Prendere degli impegni Che non riesco a mantenere Quindi sicuramente Il tempo È una variabile importante L'altra cosa fondamentale È la qualità del servizio Anche qui Ok Sembra banale In realtà Proprio perché Parliamo di un servizio Ricorrente Io devo essere in grado Di dare Vero valore Ogni mese In maniera continuativa E non è detto Che sia semplice Devo trovare L'offerta giusta Per poterlo fare Perché altrimenti L'offerta ricorrente Sembra più una tassa Cioè Qualcosa Che devo pagare Mensilmente Ma poi in realtà Non mi stai dando Niente in cambio Quindi La vera sfida Puoi trovare Il modo di farlo Nel modo giusto E quindi Riuscire a dare Effettivamente Importanza A quello che ti sto offrendo Nel mio caso Certi servizi Sono apprezzati Più che altro Per Da una parte Per il Ti delego Tutte le complicazioni E ci pensi te Io non ci devo pensare Dall'altra Anche qui Dipende molto dal cliente Quindi ci sono Clienti che possono dare valore A questa cosa Clienti che invece Apprezzano di più Il Quando ho bisogno di qualcosa So che è coperto Da questo tipo di servizio E quindi Anche se questo mese Non ti chiedo niente Magari il prossimo mese Ho due richieste da farti E me le puoi gestire Quindi Dipende ovviamente Dalle situazioni Dipende da cosa Uno può offrire Però Anche lì Sono Sicuramente Punti importanti L'invito Che vi faccio È di valutare All'interno Della vostra attività Se c'è modo Di Integrare Un servizio Di questo tipo Poi magari La risposta è no Però Potrebbe Effettivamente Fare la differenza Mi piacerebbe Anche avere un confronto Perché Io ho scoperto Che per me funzionava Ed è stato Insomma Un bel passo avanti Chiaramente Capisco Che possa non essere Adatto a tutti gli ambiti Ma secondo me Offrendo servizi O Potendo prevedere Un percorso di crescita È una cosa Che Si può fare In molti casi E con molti tipi di clienti Magari non tutti Ma anche se c'è Qualche cliente Che può essere interessato Ho la possibilità Di offrirgli qualcosa di più Che prima non offrivo E Mi piace richiudere Con tre consigli di lettura Chi mi segue Sa che soprattutto Sulla mia newsletter Mi piace raccontare I libri che leggo E approfondirli Questi sono tre libri Che in qualche modo Sono tutti e tre collegati Agli argomenti Di questo talk Il primo è Catturare i clienti Che è un libro Molto interessante Per capire Cosa ci appassiona E cosa ci Rende Diciamo Dipendente È una parola brutta Ma Da un'applicazione Da un software Da un programma Con tutti I risvolti Anche etici Della cosa Ed è per questo Che è interessante il libro Tutto esaurito Di Daniel Priestley È un libro Adatto Per lanciare Nuovi prodotti E servizi Ci sono Molti argomenti Validi E all'interno Di tutto esaurito C'è una delle definizioni Migliori Di ecosistema Che ho trovato E ne parlavo anche prima Tra un talk E l'altro È il motivo Per cui Noi freelance Dovremmo effettivamente Crearci un ecosistema Intorno E non pensare Come Non so Ho solo il sito web Ho solo i miei canali social Ma Avere una visibilità Che va oltre E Venditi bene Di Daniel Pink È un libro sulla vendita Ma il titolo Non gli rende giustizia Perché il titolo originale È To sell Is human Vendere umano E Fondamentalmente Dice che siamo tutti venditori Anche se non lo ammettiamo Anche se non ci piace La vendita non è solo Ti do qualcosa E mi dai dei soldi in cambio Ma è anche Ti Voglio raccontare la mia idea E voglio condividere la mia idea Ci sono Tanti modi E tanti Argomenti Per cui la vendita è importante Ed è uno dei libri Io Non mi sento Un venditore assolutamente Però è uno dei libri Che ho apprezzato di più Sull'argomento E noi l'atti Insomma Un bel po' Detto questo Se avete domande Ovviamente sono a disposizione Vai Dimmi pure La seconda è Sì, sì, sì Domanda giusta Assolutamente Allora È un servizio Che all'inizio Quando l'ho lanciato L'ho proposto Privatamente Ai clienti Con cui volevo Trestarlo Poi sì Effettivamente Ho creato una pagina Sul sito E lo promuovo Sul sito Dopo un po' Di tempo Quando ho visto Che funzionava Ci ho fatto anche Una campagna di Google Ads Per promuoverlo Quindi Questa era La prima domanda L'altra domanda Qual era? Ah, ok C'è una soglia minima Cioè Ho detto Sotto a questa cifra mensile Non posso Non ci rientro E non riesco a Dedicarti il mio tempo Poi dipende molto Dal progetto Perché ovviamente La complessità Di gestire Nel mio caso Un sito Vetrina È diverso Rispetto a gestire Un e-commerce Molto complesso Quindi dipende Un po' Dal progetto Da seguire Poi Sì esatto Cioè Si parte da una base E poi dipende Dalla complessità Del progetto O anche Da cosa mettiamo All'interno Dell'accordo Perché se vuoi Un tot di ore Mia a disposizione Possiamo includere Anche quelle Però insomma Ovviamente Va valutato C'era qualcos'altro C'era una terza domanda No Ok Perfetto Sì dimmi Ok 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 Allora Diciamo che Per il tipo Di servizio Che offro Ci sono Delle attività Che sono Alla base Di tutto Quindi Per tutti i clienti Mi assicuro Che il sito Funzioni Che sia aggiornato E quindi Fondamentalmente Fondamentalmente Delle scadenze Settimanali Ogni Una o due Settimane In cui Verifico Tutti i siti Che gestisco Li aggiorno Se c'è necessità Controllo Insomma Che tutto Stia funzionando Mensilmente Mando un report A ogni cliente Delle attività Fatte Che comprendono Appunto Gli interventi Fatti operativi Gli extra Magari Non lo so Cose impreviste Poi nel caso Di siti web Mi viene facile Anche includere Non lo so Dati Sulle visite Statistiche Di base Che comunque Puoi avere In un report Fa comodo Spesso fa comodo No Ho un software Che mi Genera Questi numeri Perché dovessi fare Un report A mano Per ogni cliente Insomma Avrebbe altri costi Ok Espero di averti risposto Bene Ci sono altre domande? No Ok Perfetto Vai Grazie mille Chiaramente